Il fenomeno si può chiamare. Come si può chiamare questa congerie di medium strumenti sensitivi veri e falsi che vedono, sentono, prevedono e anche se raramente producono dei fenomeni fisici genuini? Commento. Il fenomeno si può chiamare mosaico evolutivo globale. Come hanno detto e ripetuto i maestri del cerchio K? Nel suo insieme spirituale più vasto, sempre secondo i maestri del cerchio K, il fenomeno si può chiamare anche iniziazione generale.